Probabilmente era l'unica possibilità che lui aveva e quindi l'abbiamo presa al volo, speriamo che vada tutto bene. Stanca ma raggiante questa mamma ha donato un rene al figlio e già anni fa lo aveva salvato da una leucemia con il trapianto del proprio midollo osseo. Simonetta, 54 anni, di Perugia e figlio Matteo, di 29, hanno combattuto insieme per la vita in due sale operatorie vicine, aperte contemporaneamente per 8 ore. 24 ore dopo tutto bene. Pensavamo che il rene sarebbe partito più lentamente del normale, in realtà è partito bene. Stavo oggi ha fatto anche un ecodoppler di controllo che funziona tutto bene. La terapia non verrà fatta, terapia immunosoppressiva. Grazie al trapianto del midollo materno, l'organismo del ragazzo riconosce il nuovo organo quasi come suo, compatibile al 100%. Con un rene sono, ne ho conosciuti tanti, vivono bene. E forse è la volta che mi riposo un po'. Al centro trapianti di rene delle Molinette di Torino, il primo in Italia con oltre 120 trapianti l'anno, soddisfazione per un intervento complesso. Ora non resta che aspettare. Io sono in pace con me stessa, quello che potevo fare ho fatto. Adesso sta loro, sono stati veramente molto bravi e poi siamo nelle mani del Signore perché è l'ultimo che mette la parola.